Osteoporosi, osteopenia e rischio di fratture. Scopriamo tre azioni fondamentali che puoi fare già adesso per migliorare la salute delle tue ossa. Purtroppo la maggior parte della popolazione può incorrere in questi tipi di patologie che riguardano il tessuto osseo e nell'aumentato rischio di fratture. La differenza tra osteoporosi, che è una patologia caratterizzata da una bassa densità minerale ossea che predispone i pazienti a fratture da fragilità a basso impatto, l'osteopenia invece è sempre caratterizzata da questa diminuzione della densità minerale ossea, però secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è rappresentata a un T-score, un particolare valore, tra meno 1 e meno 2,5, mentre valori inferiori a meno 2,5 sono gli agnostici per l'osteoporosi. Ma quali sono i numeri? Purtroppo sappiamo che è una patologia che colpisce maggiormente le donne, infatti oltre il 50% delle donne in post-menopausa, in questo periodo delicato della loro vita, avrà una frattura correlata all'osteoporosi e solamente il 33% delle donne anziane che hanno una frattura dell'anca sarà in grado di tornare a una vita indipendente. E allora quali sono queste azioni che noi possiamo compiere da subito per ridurre appunto questo rischio di fratture, ridurre la possibilità di incorrere in queste patologie? La prima azione che puoi fare è fare attività fisica. Ma che tipo di attività fisica? Sì, va benissimo camminare, andare in bicicletta, correre se puoi farlo, se hai un peso ideale che può sostenere queste attività. Ma quello che ti consiglio principalmente è l'esercizio contro resistenza, specialmente per le arti inferiori, ma anche chiaramente per il tronco, poiché l'osteoporosi può anche colpire la colonna vertebrale, specie la zona toracica. Esercizio contro resistenza, di che cosa stiamo parlando? Ma parliamo di squat, parliamo di affondi, parliamo di una sedia isometrica, parliamo di un bridge, tanti tanti esercizi per le arti inferiori. Numero due, la dieta. Alimenti ricchi in calcio e in vitamina D. Tantissime persone, specialmente in Europa, sono carenti di vitamina D e l'esposizione al sole può sicuramente aiutarci, così come possono alimenti ricchi in questo micronutriente. Tante volte può essere utile un'integrazione di vitamina D, magari di calcio no, perché ci arriviamo tranquillamente con alcuni alimenti specie, con i vegetali a foglia larga. Ma quali sono questi alimenti? La NOF, ossia la National Osteoporosis Foundation, ci consiglia latticini per il calcio e alcuni prodotti fortificati, sono anche fonti di vitamina D, mi raccomando. Abbiamo yogurt, formaggio e latte, il pesce, fonti di vitamina D ma anche di calcio, specialmente le sardine, sgombro, salmone e tonno. Frutta e verdura di tutti i tipi. Cavolo riccio, cime di rapa, il cavolo cinese, il famoso bak cho, il tarassa con i broccoli, gli spinaci, ma anche le patate, le patate dolci, la barbabietola, il cavolo cappuccio, i prodotti a base di pomodoro. Davvero tanta tanta frutta e verdura. Terzo punto, mantenere un peso ideale, un BMI tra il 18 e il 24, quindi non essere sottopeso, ma soprattutto non essere sovrappeso. Di conseguenza, mantenere uno stile di vita attivo e una dieta, oltre ad assumere calcio e vitamina D, bilanciata, sicuramente ci possono aiutare in questo obiettivo. E allora, riassumendo, attività fisica, fai esercizio, muoviti. Vitamina D e calcio, cerca fonti alimentari come il latte, prodotti caseari, alcuni tipi di pesce e moltissimi vegetali a foglia larga, verde, ma anche foglia scura, e mantieni un peso ideale, sempre seguendo magari la prima regola, anche con l'attività fisica. Adesso poi viene una bella stagione, un bel giro in bicicletta, una bella passeggiata, una, due, tre, quattro, anche più volte a settimana. E allora anche oggi, se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca la campanella per ricevere tutte le notifiche e fammi sapere con un commento qui sotto se il video ti è piaciuto, se non ti è piaciuto. Se non ti è piaciuto puoi anche lasciare un dislike, non c'è problema, devo imparare, devo capire che cosa ti piace. E noi ci vediamo al prossimo video. Saluti!